Non è che mi preoccupa, che non sono d'accordo, per me non è una questione assolutamente tecnico-tattica, non è questo, è che il nostro atteggiamento è completamente sbagliato. Se noi arriviamo a una partita che sappiamo quanto essere importante, se vogliamo tirarci fuori da un momento di difficoltà, perché è evidente che è un momento di difficoltà, vuoi le assenze pesantissime davanti, perché noi in questo modo possiamo giocare anche due ore ma non faremo mai gol, perché è problematica la situazione. Quindi al di là di questo, ma non è questo che mi spaventa, il problema è che tu puoi anche non fare gol, però non puoi prendere dei gol così come li prendi, perché non è una questione tattica, non è una questione di errori difensivi o quant'altro, è una questione di testa. Perché se tu in un momento di difficoltà, vivi quel momento di difficoltà e non riesci a capire che una palla magari va buttata su e invece fai vedere unica su tu stesso e fai i gol assurdi, che vuol dire che è una questione di testa, non è una questione tattica, è una questione tecnica, è una questione di capacità dei giocatori, è una questione mentale. Vuol dire che non hai quella necessaria cattiveria che ti fa capire che nei momenti di difficoltà bisogna essere anche pratici. Io ho fatto il calciatore e da calciatore mi rendevo conto che nei momenti di difficoltà facevo le cose semplici, non stavo a inventarmi chissà che, se c'era un momento di difficoltà buttavo la palla in tribuna, lo faceva Baresi, il più forte difensore del mondo, questo va capito. Quindi non mi attaccherei a una questione tattica. Oggi abbiamo cambiato, ci sono messi a 5, ma il risultato non cambia, non è una questione tattica, è una questione di testa. Ci sono purtroppo dei giocatori che non riescono ad approcciarsi bene alla partita. Mister, buonasera Luigi Di Mars, il centro. Io faccio un'altra domanda, ma fisicamente, praticamente, questa squadra secondo lei come sta? Perché dal di fuori a me sembra una squadra non propriamente in condizione, probabilmente è il nostro giudizio parziale, perché purtroppo non possiamo seguire gli allenamenti, ma il prodotto finito ci porta purtroppo a questa conclusione. Sì, ma questa è la conclusione di quando le cose vanno male. La prima aspetta che si va a toccare è quello fisico, non è una questione fisica. Sicuramente è una questione fisica per qualche giocatore, che sicuramente è ritardo perché è partito tardi rispetto agli altri, ma non è una questione fisica. Noi dati alla mano corriamo quante o più degli altri. Non lo so, Drugi, non ho verificato, vedremo domani mattina cosa gli è successo. Io conosco un unico modo per riuscire da questi momenti che è il lavoro e affidarsi ai giocatori che ci credono veramente, che in settimana danno l'anima e che lo fanno anche in partita. Purtroppo non ti puoi appellare ad altro, ma soprattutto recuperare i giocatori che ci fanno fare il salto di tanto, perché senza nulla togliergli agli altri, però purtroppo ci sono dei ragazzi che danno l'anima come bocici, come ventola, che io ringrazierò sempre, ma alcuni loro come bocici giocavolo, fa quello che può, ma è duro, è difficile, non è semplice per loro. Però sono ragazzi che in questo momento stanno dando tutto quello che hanno. Sì, però non voglio crearmi l'alibi degli attaccanti. Quello è un problema oggettivo che abbiamo, nel senso che facciamo difficoltà a fare gioco e facciamo difficoltà a creare occasioni da gol. Quello è un aspetto, quindi non voglio crearmi l'alibi di questo, ma l'aspetto principale, quello su cui cambia tra testa, è l'aspetto mentale. L'agonismo, la voglia di stare in partita, la voglia di non prendere gol. Noi abbiamo preso un primo gol, penso che sia qualcosa di allucinante. Non so se si ricordi con me, ma non è un aspetto tattico, è un aspetto di, quando tu fai gli errori del genere, quando tu puoi tirare la palla avanti e invece torni indietro e te la fai rubare. Cosa puoi fare? Paradossalmente, mister, però sono quelli più grandi che ti stanno creando veri problemi, cioè quelli che dovrebbero trascinare la scuola, lo hai detto lo stesso tu. Voi c'è uno che per 90 minuti lo puoi far giocare, darà l'anima, gli arositivi fa due errori identici, a mio avviso identici, e subito due gol identici. E quindi paradossalmente sono quelli che dovrebbero guidarla questa squadra che ti stanno creando più problemi adesso. L'essere esperti, l'essere più vecchi degli altri non vuol dire che sono sempre quelli che ti tirano fuori i problemi, vorrà dire che io farò delle scelte in base a quella che è la personalità e la voglia di lottare, la voglia di stare attaccati a risultati, non sicuramente per le presenze che hanno in Serie B o i gol che hanno fatto o quello che hanno fatto in carriera. Perché se io metto un giocatore come Belloni, che corre, non so, è entrato a primo tempo, che corre per 45 minuti dietro a tutti, noi abbiamo bisogno di quello in questo momento, abbiamo bisogno di gente che dà l'anima. Poi puoi perdere. Io ai ragazzi gli ho detto, possiamo anche perdere, ma noi dobbiamo fare una prestazione, dobbiamo uscire dal campo che abbiamo dato tutto, che sudi, che sputi sangue. Poi puoi perdere, nessuno ti dirà niente. Se sei più scarso degli altri, se gli altri sono più forti, faremo i complimenti, però non è possibile che ogni volta facciamo gol da soli, perché noi facciamo gol da soli. Massimo, scusa, volevo farti una domanda. La sensazione che ha dato oggi il Pescara è quella di impotenza, almeno per quanto mi riguarda. È il momento delle scelte, quindi, da parte tua? È il momento delle scelte, quindi. Se parliamo di impotenza offensiva, sicuramente sì, ma è sotto gli occhi di tutti. Facciamo fatica, facciamo fatica, perché purtroppo stiamo giocando con con tre quartisti che fanno le punte, con Ale che fanno le punte e in determinati momenti, quando hai bisogno di un attaccante che ti tiene palla, che ti fa respirare, che ti fa salire, che è una punta vera, e tu non ce l'hai e fai fatica. Quando noi abbiamo giocato con Setter, ad esempio, che è un attaccante, sicuramente abbiamo creato più problemi, ma anche come impatto fisico, e come attacco la porta e quant'altro. Ma questo credo che sia sotto gli occhi di tutti. Ripeto, non voglio trovare alibi, ci mancherebbe. Però c'è un senso di, come hai detto tu, di impotenza, reale davanti. reale, perché purtroppo al calcio i gol li vanno gli attaccanti. E se non ce l'hai è dura, è difficile. Mister, ecco, proprio alla luce di quello che hai detto poco fa, sta pensando a una terapia d'urto particolare, anche di concerto con la società, un ritiro a qualcos'altro, insomma, per provare a riuscire fuori da questa situazione? Io non ho mai creduto ai ritiri, non servono a nulla. Io credo che ogni giocatore, a partire dallo staff, quindi a partire da me, bisogna farsi un bel esame di coscienza, ma vero, sincero, e non tanto per farlo. Tirare fuori qualcosa in più, perché nel calcio li si hanno delle difficoltà, come le possiamo stare, possiamo avere noi in questo momento, ma dobbiamo dimostrare a volte di essere, no a volte, sempre di essere uomini. Nella vita tutti hanno i problemi, adesso stiamo parlando di calcio, ma i più grandi esempi nella vita sono quelli che combattono, lottano e escono dai momenti difficili. Noi dobbiamo fare solo e esclusivamente questo, però con sincerità. Chi non ce la fa deve alzare la mano e si deve tirare fuori. E dimostra di essere uomo. Meglio così che magari andare in campo e non dare tutto quello che sia. A fine partita ha parlato qualcuno della società, direttore sportivo, presidente, volevo sapere cosa vi siete detti, se vi siete detti qualcosa e se c'è stato un confronto. Grazie. No, non ho parlato con la società, erano lì, ma io sono andato a uno spogliatoio, ho parlato con il mio staff. Tu pensi di avere, scusa Massimo, so che è una domanda un po' particolare, ma pensi di avere il controllo totale del gruppo? Perché da quello che hai detto... In che senso Massimo il controllo totale? No, se pensi di avere proprio in mano il gruppo ancora, oppure ci sono delle situazioni un po' particolari. Quando dici servono uomini, chi non ce la fa deve alzare la mano e tirarsi fuori, mi pare una dichiarazione forte, ecco questo intendo dire. Ma in realtà è semplicemente la realtà, cioè il calcio, questo è il calcio. Di cosa parliamo? Noi dobbiamo andare in campo, noi facciamo il mestiere più bello del mondo e bisogna prendersi le responsabilità. Come le prendo per prima, però c'è bisogno che se le prendano tutti. Non basta che solo la loro responsabilità, ce le dobbiamo prendere tutti. La cosa più brutta che c'è nel calcio è crearsi alibi. E questa è la prima cosa che fanno i calciatori, sempre e comunque. Quando le cose vanno male si prendono sempre gli alibi. Ecco, i giocatori maturi, quelli veri, quelli forti, ma forti non tecnicamente, ma quelli forti mentalmente, sono quelli che si prendono le propria responsabilità e vanno avanti. Il senso è questo di quello che voglio dire, è che chi ce la fa mentalmente viene con me, e chi non ce la fa rimane indietro. Io non è che posso stare a badare come se avessi un asilo nido. Chi non viene indietro gioca, chi non viene indietro rimane indietro. Vabbè, ma sarai tu a fare delle scelte, diciamo così, radicali a questo punto? No, ma le mie scelte io non ce le ho con nessuno. Io posso avere solo un tipo di valutazione, quella che vedo durante gli allenamenti. Io vi posso dire che durante gli allenamenti la squadra mi segue tantissimo, forse a volte anche troppo, quindi non è questo il problema. La squadra è con me, ma anche se non fosse con me, non me ne frega niente. Chi viene con me, viene con me, fin quando sarò qua. Morirò con quelli che dico io. Ma da quello che dice mi sembra di capire che potrebbe prendere anche delle decisioni clamorose. Io la vedo abbastanza arrabbiata, l'ascolto in maniera abbastanza scocciata, seccata. Sta pensando di prendere decisioni clamorose? Io non sto pensando di prendere nessun tipo di decisione. Io non ce l'ho con nessuno. e sono arrabbiato perché le cose vanno male. Io ci sto mettendo in pace, vorrei che qualcuno la mettesse con me. Tutto qui. Non ho paura di nulla. Io vado avanti per la mia strada, perché io sono un lavoratore, sto lì, però voglio battermi con chi crede di uscire da questa situazione e non voglio battermi con chi non ci crede. Tutto qua. E dipende tutto da loro. Ci sono gli allenamenti, dimostreranno. Se devo far giocare un 18, ne faccio giocare un 18. Ve l'ho detto prima, Belloni è entrato 45 minuti e ha dato l'anima. A me serve quello in questo momento. A noi, al Pescara, serve quello. A me serve quello. A noi. Mi serve una domanda su Galano. La faccio perché abbiamo sentito in televisione che c'è stato un battibecco a distanza tra lei e Galano. Non so se ce lo può confermare se ha parlato con il ragazzo. No, queste sono cose che risolviamo noi nello sfogliatoio e i battibecchi ci sono quotidianamente in fase di calcio. A volte sono momenti a caldo. Uno dice una cosa, l'altro risponde. Se ci dovessero essere un problema, non ci troviamo negli eventi.